Nell'ultimo periodo non stava più tanto bene, aveva avuto dei problemi, era in cura, che io sappia Vittorio Veneto, da come mi diceva lui. Mi chiedo sinceramente perché avesse ancora la patente, perché non mi sembrava proprio, come dire, perfettamente in grado di guidare. Che stavo barcollando, uscendo dalla macchina. Sabato mattina è uscita la macchina, barcollava, si vedeva che non stava bene, che non doveva guidare. Sì, 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 io ho visto sabato mattina e barcollava un po'. Qui in via fermi a Treviso lo conoscevano tutti Bruno Sabadina, una vita nei locali e nel mondo della notte, morto dopo aver provocato uno schianto con altri veicoli, procedendo a contromano sulla 27, tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, direzione Venezia. Il 67enne, dicono anche i vicini di casa, non era nelle condizioni di guidare, la malattia lo aveva divorato fisicamente e mentalmente. Nelle ultime ore anche la conferma che la patente gli era scaduta da qualche giorno. Non un dettaglio se si considera che solo per miracolo si è evitata la strage. Sabadina prima ha sfiorato una Toyota Auris con una famiglia veneziana di cinque persone a bordo, poi si è scontrato con una Passat dove viaggiavano un uomo trevigiano e una donna, tutti feriti lievi o illesi. Probabilmente Bruno da Treviso aveva preso la strada per Vittorio, convinto di doversi sottoporre a terapia, sbagliando però giorno e ora a raccontarlo la sorella Roberta che da mesi si era trasferita a casa dell'uomo per assisterlo. La mattina lui mi ha detto guarda che a lunedì dobbiamo andare su a Vittorio Veneto, che sarebbe stato oggi. No, ho detto guarda che è domenica. È la stessa Roberta, ex infermiera, a raccontare una gestione sempre più difficile e la paura nel saperlo alla guida. Anche la sua compagna ha detto no, 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 io non salgo con lui, vado col tram. Ma quando gli si diceva no, non devi fare questo, sì, sì, e allora? Lui prendeva sulla macchina e guidava. Esatto, sì, sì, sì. Era sempre una brava persona, ma adesso ultimamente era fuori di testa. Con la morte di Sabadin accade ogni possibile accusa penale, in attesa di capire se guidasse in stato alterato. Di certo resta anche da chiarire nel dettaglio la dinamica, ovvero se l'uomo abbia imboccato il casello contromano o se abbia effettuato un'inversione a U. Le immagini delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti. La morte che è stata così è stata terribile. Però la morte che doveva succedere, mi diceva il primario, poteva succedere, non si sa quanto, provarsi tra un anno, provarsi tra sei mesi, doveva succedere. Grazie. 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 Grazie.